Vorrei iniziare con una piccola storia. Dal 2013 al 2016 io ho vissuto in Canada, negli Stati Uniti, a Vancouver e ricordo benissimo un evento che veramente mi ha segnato. Vendevo e vendo tuttora delle attrezzature per edilizia in giro per il mondo e in quel momento specifico ero a Toronto, mi ricordo benissimo, in un grandissimo distributore di materiale edile che aveva 4 punti venita grossi distribuiti in tutto il Canada e io da buon commerciale ogni anno mi presentavo lì da loro, avevano un punto venita lungo e stretto con in fondo il bancone. Io mi ricordo benissimo da commerciale che entravo, facevo i primi passi, due passi, guardavo le facce dei due ragazzi che avevano al desk, abbassavano la testa, io mi avvicinavo, facevo la mia presentazione prodotto, facevo le classiche cose che fanno tutti i commerciali, gli export manager e questa cosa si ripeteva. Io ovviamente non mollavo, sei mesi dopo ero lì eccetera eccetera. A un certo punto dopo due anni e mezzo sono rientrato, stessa situazione identica, stesso prodotto, non era cambiato niente a livello di prodotto, di azienda eccetera. Però sono entrato, ho fatto due passi, mi sono avvicinato, loro mi hanno guardato, ho aperto le braccia, mi sono avvicinato ancora e mi hanno detto grazie per essere qui. Ho detto come grazie per essere qui, io è da due anni e mezzo e continuo a tornare da voi. E quindi cos'era cambiato? Cos'era cambiato in quei due anni e mezzo? Era cambiato che a parità di prodotto, a parità di servizio, tutto, l'azienda in questione aveva iniziato a lavorare in maniera forte sul digitale. Quindi io da commerciale avevo trovato un supporto che aveva, un supporto alle vendite che mi aveva veramente fatto cambiare la percezione di questa azienda. Mi ricordo, mi viene ancora la pelle d'oca perché questa scenetta era veramente impressionante. Adesso qua avevo messo una slide di Toronto e in quegli anni ho proprio iniziato a lavorare da commerciale ibrido. Io lo chiamo commerciale ibrido, un commerciale che utilizza il digitale per capitalizzare più volte quello che fa. Adesso vi farò poi vedere anche degli esempi. Prima poi di entrare un po' nel dettaglio di che cosa si può fare, diamo un'occhiata a quello che è il mondo digitale adesso, per renderci conto dove stiamo andando. Ecco, questo qua è un sito che mostra, date un'occhiata ai numeri, sono impressionanti del digitale. Quindi gli utilizzatori connessi, il numero di siti che stanno nascendo oggi, a cui parliamo di oggi, le mail inviate, le ricerche in Google. Sono miliardi e in tutti i momenti, in ogni seconda aumentano i tweets, i minuti di visualizzazione del video. Oggi, in questo momento, questo è reale. Le foto che sono state caricate su Instagram, su Twitter, su Facebook, su Google, Pinterest, messaggi Skype. Cioè, questo qua è il mondo digitale. Quindi non è un mondo semplice. Quello che vedremo dopo, ci insegnerò un po' come emergere. Come possiamo fare la differenza in un mondo così inflazionato? Nel nostro settore delle costruzioni. Questo è importante. Poi, nell'ambito del digitale, ecco, vediamo se riesco a tornare. Anche poi, nell'ambito del digitale, ci sarebbero mille cose da vedere. Quindi, come vedete un po' nella slide, si può parlare di social media, di SEO, design, mailing, algoritmi super complicati che analizzano le visite, che vi consentono di vendere l'utilizzatore che è stato per tre secondi su determinata pagina Facebook, sul vostro contenuto, eccetera, eccetera. Cioè, il digitale è un mondo enorme. Però io vorrei darvi del valore. Non sono qua a spiegarvi un tool, uno strumento, perché lo strumento si impara. Però facciamo un passo indietro. E qua vi faccio una domanda. Nel mondo digitale, non solo, anche nel mondo commerciale, qui abbiamo tutti i tool, le strategie, eccetera. Ma che cos'è il minimo comune denominatore? Cioè, tutti questi strumenti, queste tecniche, che cosa hanno alla base? Pensateci bene, che cos'è la base della comunicazione, alla fine? Perché questi ci servono per comunicare, no? È vero, questo ancora prima, sì. Però attraverso la connessione noi comunichiamo che cosa? Il contenuto, esattamente il contenuto. E noi, e noi ce ne dimentichiamo spesso, e nel nostro settore ce ne dimentichiamo, il 99% si dimentica di questo, che possiamo avere i responsabili del marketing più bravo del mondo, l'algoritmo, il marketing automation, il remarketing, campagne, fare ottimizzazione SEO, eccetera. Ma tutto, tutto, tutto ruota attorno al contenuto. Ed il contenuto fatto bene, e come vedremo dopo, a bassissimi costi o zero, di costi di investimento pubblicitario, è la chiave di tutto. E continuiamo a dimenticarcene. Andate a vedere i siti, in generale, del nostro settore, e cercate di capire, vedrete che tipo di contenuti trovate rispetto a quelli che adesso vedremo. Quindi, facciamo un passo indietro, se vogliamo fare la differenza. Adesso vi faccio vedere l'esempio di alcune aziende che hanno fatto la differenza lavorando all'origine, con costi estremamente contenuti. Ecco, all'interno dei contenuti, ovviamente, perché questa cosa è scontata, in questo momento lo sappiamo tutti noi, ci sono due dati qua, i contenuti foto e video hanno tassi di engagement elevatissimi. Nel caso specifico di oggi, ve lo parlavo e farvi vedere dei casi particolari, anche con milioni e milioni di visualizzazioni nel nostro settore, legati al video. Quindi, le foto lasciamo un attimo da parte, però legati al video. Tenete presente che ci sono ricerche di settore che dicono, sembra scontato, però ci sono i numeri a supporto, che oltre il 59% degli executive preferirebbe vedere, comprendere l'istruzione di qualcosa attraverso un video, piuttosto che i classici manuali. Eppure, il nostro mondo è ancora pieno di manuali, technical data sheet, schede tecniche, eccetera, eccetera. Ma il mondo sta andando come la scheda che abbiamo visto prima, milioni di contenuti video che vengono pubblicati. Quindi, concentriamoci un secondo sui video, e cercherò di darvi degli spunti, per veramente cercare di, prima parlavamo di cambiamento nel convegno, cercare di aprirvi un pochino la mente, e farvi vedere che ragionando in un certo modo a costo quasi zero di pubblicità o zero, perché adesso vedremo che alcuni sono zero, si possono avere numeri spettacolari, spettacolari verso il target giusto. Il video vi sembrerà banale, però dietro, quello che vedrete, ci sono dei ragionamenti importanti. Quindi, all'interno dei video ci sono diversi video, ci sono ovviamente i video creati da video maker professionisti, come loro, che hanno una certa funzione, eccetera. I video creati all'interno dell'azienda, quindi con un livello di competenza medio, e video fatti dall'influencer, i brand ambassador, eccetera. Io parlerò dei secondi due, dei secondi due perché, nella nostra esperienza, sono quelli che possono essere a basso costo e che hanno tassi di conversione enormi, se vengono fatti in un certo modo. Quindi vi danno la possibilità di avere una visibilità nazionale, internazionale incredibile. Quindi uscire dal punto vendita, oppure dall'azienda stessa, dai confini. Ancora un dettaglio, sempre qua il mio obiettivo è stimolarvi a vedere oltre quello che si fa sempre. Quindi, ancora un dettaglio, ci sono tantissime tipologie di video che si possono fare. Non bisogna pensare al classico video tecnico, di dire buongiorno, sono ingegnere Paolo Rossi, ne ho visti tanti in questi giorni quando stavo preparando per qua e da 30 anni che lavoro in questa azienda, sono specializzato in isolamento termico cappotto e oggi volevo presentarvi per le teorie che vedremo dopo, dopo tre secondi, la persona se ne va con questi video. Eppure la massa del nostro settore produce questi video. Quindi da un lato non va bene, dall'altro c'è un'opportunità enorme, enorme se si lavora in un altro modo. Quindi, ci sono decine di tipologie, però questo può essere uno stimolo, ci sono il classico video tecnico tutorial, dopo ne vedremo uno di grande successo, lunghissimo tra virgolette, no tra virgolette, lunghissimo. Sapete che se voi, voi sentite probabilmente in internet gente che dice ah il video deve essere 5 secondi, 30 secondi, non c'è niente di più sbagliato, nel senso che il video può e deve anche essere di 30 secondi. Però ricordo uno dei miei maestri che è uno dei manager di 500 Startup, che è l'incubatore di Startup più grosso a Londra, che diceva il video deve essere lungo tanto quanto la storia che dovete raccontare. Vi farò vedere un video da 16 minuti che ha avuto performance incredibili e ne abbiamo diversi di quella tipologia di video lì. Poi lo vedremo più tardi anche video emozionali, cioè avete visto quanto scorrono i numeri, quanti video vengono postati, eccetera, se vogliamo fare la differenza è importante uscire dal classico, perché la qualità è ormai data per scontata, soprattutto per aziende di un certo tipo. Il fatto che funzioni è dato per scontato, se vogliamo merger dobbiamo fare qualcosa di diverso. Quindi iniziate a pensare anche video, mettiamoci in gioco. Altra cosa, prima di farvi vedere quei micro video, altra cosa importante, ricordatevi che la tensione media del consumatore adesso dai 3 ai 6 secondi, quindi avete veramente 3 secondi o 6 secondi massimo a seconda per catturare la tensione, altrimenti sono andati. Quindi tutte queste cose sono dei concetti che vanno tenuti presenti quando si fanno i classici video buongiorno signor Paolo Rossi, perché i 3 secondi sono già andati. Infatti, quindi è importantissimo. Dopo vi farò vedere proprio un processo di costruzione interessante. Allora, questo qua, adesso ve lo faccio vedere, semplicissimo, una taglia piastrelle. E qua ci sono diversi valori dietro. questo video ha avuto oltre 10 milioni di visualizzazioni senza mettere un euro, è stato fatto in presentazione prodotto, quando le persone vengono a fare la presentazione prodotto. Quindi, da un certo punto di vista ha avuto il suo successo online, ma la cosa più importante, il messaggio più importante che volevo passarvi, voi che avete sicuramente commerciali sul campo, è il fatto che il commerciale che era qua ha fatto il video, non era un videomaker, certamente è un commerciale ibrido che sapeva delle tecniche, però a me piace dire, piace il concetto di capitalizzare più volte le cose. Quindi, questa persona era, in questo caso, in Inghilterra, stava aspettando dei clienti, ha cercato una piastrella particolare che potesse avere un valore percettivo, un'unicità da comunicare, è andato a fare questo video con una certa angolazione banalissima, a pochi secondi, e ha avuto 10 milioni. Tra l'altro vi dico che questo video l'abbiamo fermato perché stava crescendo molto di più. Perché l'abbiamo fermato? Qua bisogna avere la forza e la conoscenza perché ovviamente non ci sono 10 milioni di piastrellisti, il problema è che all'inizio il video si diffonde nel canale che ci interessa, per soltare che ci interessa, dopodiché va alla signora Maria e quindi a quel punto lì iniziano commenti che non hanno senso, è meglio fermarlo. Però poi serve per altre dinamiche. Anche qua ci sono, vedete, in tre secondi parte con la piastella l'alzata fa vedere il luccichio che a livello di neuromarketing è una delle cose cattive di più, il fatto che l'esitazione stessa e dopo vi dirò un concetto di psicologia comportamentale interessantissimo, il fatto che all'inizio fa un po' di fatica e questo è uno dei tanti che con questa azienda siamo usciti a creare con milioni di visualizzazioni. Adesso vediamo se riesco a scappare, eccoci qua, vedete qua, commenti, eccetera. Un altro, ok, questo qua è ancora banalissimo, è super fresco, sono due settimane fa, una foratura normale, solamente che è stato fatto con certi criteri, in un certo canale e è una foratura. Adesso ve lo faccio vedere, eccoci. Sembra banale, ma per come è stato costruito, per piccoli dettagli, fatto un'altra volta durante la presentazione, e quindi capitalizzare più volte il tempo delle vostre risorse commerciali, sta avendo un exposure, una visibilità incredibile. Questo qua è un video appunto corti, come dicevamo prima, che comunque hanno una funzione di visibilità. Altro video, questo qua di qualche anno fa e ha un'unicità particolare. 80 di, anche per la vostra, sì, sì, per diverse aziende, adesso faccio vedere altri casi, faccio vedere altri casi, questi qua sono significativi, e anche in questo caso specifico, la cosa bella è stata scegliere il materiale giusto, dopo vi faccio vedere i casi anche per l'isolamento, altre cose particolari, scegliere il materiale giusto, inquadratura giusta, la persona che stava facendo la fiera, nel caso specifico, a Las Vegas, che stava aspettando un'altra volta i clienti, cioè, è riuscito a, mi sembra che quel giorno lì aveva incontrato tipo quattro, quattro potenziali acquirenti, però poi dall'online sono arrivate 32 richieste d'acquisto per il video, nello stesso tempo, e questa è la cosa che bisogna cercare di capire, anche il cambio del paradigma del commerciale, il commerciale classico che va con la valigetta, il catalogo, i più bravi vanno con la presentazione, eccetera, ma si può fargli rendere il doppio, tra virgolette, se poi qualcuno è portato e riesce comunque a vedere oltre. E qua, entriamo dentro, vi faccio vedere altra tipologia di video, e qua è interessante perché quando un video è successo, voi potete in qualche modo riprendere lo stesso concetto, riproporlo, e anche quest'altro video su Facebook ha avuto 4 milioni di visualizzazioni, guardate l'interazione, eccetera, anche qua, senza mettere un euro, io continuerò a ripeterlo, questo che è importante, che sono fenomenali questi numeri nel settore, considerando che non ci sono investimenti pubblicitari veri. Perfetto, e qua vi fa vedere che chi capisce un po' di digital vede benissimo che i video non sono stati promossi perché non c'è il boost attivato, il boost vuol dire quando ci metti soldi, e ci sono una casistica ormai di video da 4 milioni, 3 milioni, 7 milioni, 7 milioni, 2 milioni, eccetera, 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 cioè il fare il video in un certo modo con certe attenzioni porta ad avere una visibilità enorme con i sosse veramente limitati, i sosse già presenti in azienda magari. E questo qua, vi faccio una piccola premessa prima di spiegarvi questo, quando l'azienda inizia, perché questi video qua non sono costruiti, non sono finti, non sono luccicanti, sono video creati nella realtà, nel contesto, nel cantiere, durante la presentazione, eccetera, quindi per l'utente finale sono percepiti come reali, oggettivamente reali, quindi c'è tutta una dinamica poi che si mette in moto, si mette in moto una dinamica che il vostro cliente inizia a credere di più a quello che dite, se avete il coraggio di mettere fuori oggettivamente quello che siete, quello che state facendo. Quando si crea questa dinamica, la community poi di clienti che vi segue inizia a reagire, quindi cosa succede? Questi sono video creati da qualcuno dell'azienda, ma poi iniziano a nascere senza paura i video creati dagli utenti finali, quelli che si chiamano user generated, che quelli hanno una potenza a livello di conversione nettamente più alta anche di quelli che hanno avuto milioni, perché sono creati da altri utenti soddisfatti, video e foto, eccetera. Le foto che vi faccio vedere dopo sono proprio, e sono le ultime cose di questa azienda specifica, sono veramente l'espressione massima di un legame che si può creare con l'utente finale e allora si sposta tutto, si sposta tutto l'attenzione comunque dal prezzo all'azienda, non è più il prezzo, non è più la qualità, non è più solo il prodotto, come è dato per scontato, quando centinaia o quasi migliaia di utenti finali arrivano a mettere loro stessi in gioco in questo modo un legame, se voi riuscite a creare con le vostre aziende un legame con l'utente finale e gli utenti finali da soli in giro per il mondo, Slovenia, Inghilterra, America, Stati Uniti, Francia, iniziano di loro spontanea volontà a creare contenuti senza parlare con l'azienda, avete tra virgolette svoltato, avete svoltato, il vostro brand non è più legato a dinamiche esclusivamente di prezzo, ma c'è un legame emozionale, iniziamo a fare la differenza rispetto a quei numeri che vedevate che scorrevate e ce ne sono centinaia di questi tipi di contenuti, quindi iniziamo a lavorare in un certo modo come vi sto dicendo uscite dalla competizione classica sul prezzo in questo mercato che è super invasato di queste cose, anche noi facciamo sorridere quando sono arrivate queste foto ma altre non le posso far vedere e come vi dicevo prima cerchiamo di anche se vendiamo business to business business to consumer veramente di attirare l'attenzione del consumatore finale come vi dicevo prima avere coraggio per fare la differenza adesso bisogna avere coraggio e mettersi in gioco quindi togliere i luccichi togliere i video super montati super preparati eccetera perché ormai il mercato è in baso di queste cose ed infatti non fanno quei numeri che avete visto tutti gli altri video super preparati e ci dovremmo fare accendere una lampadina questa tipologia di approccio e siate veri perché ormai in internet il mondo delle bugie che una volta caratterizzava alcuni produttori è passato perché viene smascherato immediatamente dall'utente finale quindi quello ci si rivolta contro adesso vi chiederete sì facile infatti ho messo un esempio apposta facile creare engagement creare relazione con un utensile un macchinario un qualcosa che comunque ha una funzione non ha troppe caratteristiche tecniche schede tecniche eccetera allora ho tirato fuori un altro un altro esempio concreto e reale di un prodotto chimico che abbiamo seguito questo qua è un video molto lungo è un tutorial molto lungo è un prodotto impermeabilizzante per i tetti piani che ha delle caratteristiche particolari che ci ha descritto l'azienda all'inizio che si poteva applicare sull'umido ad alte temperature o anche vicino allo zero il video che tutti nel settore avrebbero fatto è un bel video anche tutorial con effetti speciali che tranquillamente possiamo fare anche noi però anche lì eravamo nella massa eravamo nella massa di un settore che va a schede tecniche eccetera quindi come fare a prendere a dare valore all'utente finale e a prendere l'attenzione da subito mantenerlo in un video di 6 minuti come facciamo a fare questo lavoriamo con certi criteri adesso vi faccio un minimo di teoria prima di farvi vedere a spezzettini quello che abbiamo fatto in questo video particolare ripeto una cosa che ho detto prima e lo vedrete adesso nei print screen di questo video date per scontato da un certo punto di vista la qualità ho comunicato in altri video ma cercate di tirare fuori qualcosa di diverso o usate ancora un'altra volta e questo video abbiamo veramente usato un po' di teorie anche per rispondere alla domanda della ragazza questa qua è un classico grafico dell'attenzione durante una classica presentazione quindi attenzione massima all'inizio che pensate che magari uno farà chissà cosa dopodiché cala è naturale che sia così dopodiché cala ci sono dei picchi dovuti a qualcosa di più o meno interesse ma scema e poi verso la fine c'è ancora un po' attenzione per capire cosa succederà questo qua è l'andamento classico ed è l'andamento classico anche di un video quando il video è lungo è lungo uno poi l'azienda stessa ma uno poi che costruisce il video deve essere cosciente di questo deve prevenirlo e lavorare di modo tale che riesca a compensare di fatti io qua nella secondo schema ho messo il ragionamento che adesso vedrete proprio realizzato questi fulmini sono dei momenti in cui si risveglia l'attenzione quindi si tira fuori qualcosa per fare in modo che l'attenzione rimanga alta tenete presente che durante una presentazione lunga che sia le persone normalmente ricordano il picco ricordano il picco quindi se voi per esempio avete qualcosa di eccezionale l'ideale è posizionarlo alla fine perché ricordano più il picco e alla fine questi qua sono concetti di neuromarketing che però qui stiamo parlando di digitale che però questi concetti sono validi anche per il commerciale attenzione dal bancone al commerciale che va sul mercato quante volte avete visto un vostro commerciale che fa tutta una presentazione fantastica eccetera e poi alla fine si mette con il cliente a parlare dice ok adesso parliamo di quel difetto di quella problematica che ha avuto in cantiere nulla di più sbagliato perché è l'ultima cosa se c'è qualcosa così devi metterle in mezzo alla discussione non alla fine e i dati derivanti dal digital stanno aiutando tantissimo anche i commerciali più evoluti a iniziare anche a cambiare il modo di presentare il modo di parlare tenendo presente questi concetti e adesso vediamolo applicato nel concreto anche qua l'azienda riconoscibile anche qua il video io devo cogliere l'attenzione come faccio a cogliere l'attenzione in questo settore nel caso specifico ottobre cielo azzurrissimo ovviamente il video partiva con l'inquadratura solamente centrale di una persona con l'ombrello che sta effettivamente piovendo quindi una cosa banale simpatica ed emotiva sembra sembra una una banalità ma il prodotto si può applicare sul bagnato quindi il concetto la teoria è supportata da una cosa da un qualcosa di emozionale quindi la persona rimane attaccata non ve lo faccio vedere perché questo qua è più lungo potete poi andare a vederlo la persona rimane attaccata cosa starà succedendo in tre secondi che è molto di più di condividere il dato tecnico che si può applicare sul bagnato la persona rimane lì la camera si sposta si simpaticamente fa vedere che l'acqua arriva dalla canna eccetera e la persona è lì passati i tre secondi io voglio vedere cosa succederà in questo video poi altra cosa i punti principali come ho detto che erano tre quindi la possibilità di applicarlo sull'umido non sul bagnato sull'umido a zero gradi e anche a 40 gradi ancora una volta si possono fare effetti speciali tutto quello che volete voi i video che vedono tutti che ormai li fanno tutti abbiamo detto facciamo una cosa estremizziamo estremizziamo le caratteristiche quindi nel caso specifico cosa abbiamo fatto abbiamo applicato non sull'umido sul bagnato facendo vedere con delle inquadrature particolari che il prodotto in questo caso non si mischiava non si mescolava con l'acqua quindi qualche secondo lì hanno parlato molto più di un dato tecnico che poi c'era comunque anche questo tutto fatto veramente in maniera artigianale ghiaccio secco portato sul tetto membrana desiata vecchia portato sul tetto il ghiaccio setto ottobre per ricreare gli zero gradi centigradi e tutto poi provato con la termocamera quindi da un lato si gioca sulla parte emozionale dall'altro si dà supporti supporti proprio tecnici per far vedere che stiamo parlando seriamente quindi questo qua l'altra parte che abbiamo portato la temperatura a zero e poi abbiamo applicato e altra cosa abbiamo proprio scaldato col cannello e c'erano le tre aree scaldato col cannello per portarlo in situazioni come Dubai dove poi a detta dell'azienda appunto la lavorabilità è minore perché il prodotto si adesso per me vengono i termini inglesi ma comunque si si secca diciamo così prima ecco poi i tecnici dei liquidi potranno aiutarmi anche qua abbiamo estremizzato eccoci qua scusate faccio un passo indietro e poi abbiamo fatto vedere il materiale applicato passato il tempo la prova dell'acqua eccetera eccetera ma tutti in maniera abbiamo trasmesso in maniera emotiva con risorse interne non stiamo parlando di budget non mi avete sentito parlare di un budget pubblicitato di niente con risorse interne però lavorando sulle idee e sono questi video che poi fanno i numeri dovevamo finire vi ricordate adesso dovevamo finire col picco quindi come finire col picco in quel prodotto specifico questo prodotto specifico nel suo caso aveva un alto livello di carrabilità perdonabilità e carrabilità anche qua potevamo dare il dato tecnico eccetera come fanno tutti invece semplicemente abbiamo fatto giocare con i tacchetti una persona proprio sul materiale applicato il giorno prima ancora supporto di un dato tecnico andiamo avanti ho dato i numeri di questo video nel settore penso che non ci sia nessuno creato da un'azienda che ha questi numeri in organico senza essere stato sponsorizzato questi poi sono dei pezzettini che sono stati pubblicati e nel concreto so che l'azienda è riuscita a aprire anche diverse nazioni distributori in diverse nazioni grazie a un approccio così si è messo in gioco non era il classico video patinato anche qua abbiamo visto un prodotto della chimica quindi abbiamo parlato attrezzature anche chimica stesso concetto e allora ho fatto un po' di teoria quindi quando fate una presentazione del prodotto quando fate un video tenete presente il flusso il flusso di attenzione mettete i punti rilevanti gli wow come si dice no point alla fine uno all'inizio qualcosa in centro per tenere su e poi vengono costruite questa tipologia di contenuti che se poi voi li distribuite con sistemi avanzati di marketing automation newsletter super tecnologie eccetera quello che va è un prodotto di altissimo valore prego prego perché in questa fase era no perché in questa fase era la fase dell'awareness generale quindi il prodotto era lanciato e c'è una fase di awareness dopodiché viene fatto remarketing o retargeting su quelli che hanno visto il video queste cose poi sono delle tecniche eccetera c'è un modo incredibile però io ho tenuto a dire che è l'origine il succo la polpa di pomodoro quella se quella è buona dopo giustamente su questi due milioni è stato fatto un retargeting con call to action forum di registrazione che sono andati nel newsletter nel newsletter poi in automatico veniva costruito un funnel eccetera quindi potremmo parlare all'infinito assolutamente in queste fasi è proprio awareness iniziale perché così tu poi lavori su un audience caldo non è l'audience che a secoli dici ok scrivimi quindi lo si fa in una fase seguente no 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 in questo caso in questo caso c'era sì sì nel senso che è avvenuta dopo cioè la mia di domenica è in tre milioni di domenica no no perché sono perché dopo quando fai no 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 perché dopo quando fai la colturation usi i vari filtri che ci sono ti dice ok utilizzatori che sono interessati a costruzione interessati a impermeabilizzazione piuttosto che impermeabilizzatori piastrellisti a seconda di quello che in quel caso specifico Facebook ti dà perché sta cambiando molto una volta per esempio c'erano i piastrellisti adesso non ci sono più e quindi bisogna andare a vedere no dopo quando fai la targetizzazione di quell'audience gli dici prendi solamente quelli che sono interessati alle costruzioni quelli che hanno guardato il video per quattro minuti no dopo mentre si va dentro nel funnel si può poi applicare dei filtri sì sì assolutamente e noi siamo anche dell'ottica di creare questi funnel abbastanza complicati che è assurdo perché normalmente ti dicono ti dicono fai solo che rendila semplice deve solo mettere la mail sì poi ci arrivano come è successo una campagna in Sud America 12.000 contatti 12.000 contatti di gente che ha cacciato la mail che però dopo nel funnel si è concluso in niente quindi è meglio creare dei filtri a monte con una barriera molto più complicata in modo tale che chi si mette lì a compilare tutto e perde tempo è una persona già un pochino più selezionata quindi da quel punto di vista lì è così vi faccio vedere un altro video ancora di un settore completamente diverso proprio cime anche qua un intervento per farlo diventare virale è stato è stato talmente banale però in questa industria non so se avete mai visto un'azienda che produce cime in questo caso la Gotti Ferri Maffioli è quella che fornisce le cime per il barcavela anche di Coppa America così per curiosità quando vedrete poi la Coppa America con luna rossa eccetera a queste cime in questo caso tutte le aziende del mondo che producono cime normalmente fanno vedere la parte con la parte superiore quindi vista orizzontale che guarda proprio l'assemblaggio tra virgolette dell'anima con la cima è stato cambiato un dettaglio adesso vi faccio vedere aspetta che la apro la cosa che è stata cambiata semplicemente è stato iniziare da un altro punto di vista da un altro punto di vista nessuno in questa industria che è un'industria che ha centinaia di anni non l'azienda ma la tipologia di business aveva messo una telecamera da sotto aveva cambiato il punto di vista e questo qua mixato con l'altro ha avuto come avete visto prima oltre 11 milioni di visualizzazioni organiche quindi è veramente cross settore questa cosa perfetto quindi se vogliamo un pochino riassumere dei concetti che alla fine sono banali ma guarda caso se guardate i video e le altre informazioni sono purtroppo dimenticati quindi cerchiamo di creare un contenuto che abbia valore per chi lo guarda non per noi non raccontiamoci non autocelebriamoci mettiamo in discussione quello che abbiamo sempre fatto nei video perché comunque crea rilevanza crea un'aspettativa che qualcosa sia cambiato non barare essere genuini l'utilizzatore finale è lì che ci aspetta osare quindi essere proprio creativi e poi conoscere a fondo l'interlocutore con il quale stiamo parlando perché magari ci penso ok io faccio il video del mio prodotto e cerco di parlare all'utilizzatore finale è un pochino quello che facciamo tutti però ci sono altri attori nella distribuzione per esempio o nell'avvento o nell'applicazione che sono dimenticati per esempio vi faccio un esempio interessantissimo una volta che collaboravo qualche anno fa collaboravo con una società di consulenza di Baccellona e loro non è il settore di però è molto interessante avevano preso l'incarico di capire perché una macchina di quelle vending della Coca Cola di questi prodotti che era localizzata in una certa stazione vendeva meno che altre macchine e non c'era i prodotti erano gli stessi la macchina era gli stessi il traffico c'era hanno fatto tutta l'analisi e sapete alla fine qual era il problema di quella macchina è che con la macchina specifica il ragazzo che andava a caricarli a ricaricare della Coca Cola e trovava difficile ricaricarla perché era in una posizione particolare la ricaricava meno e quindi questi vendevano meno cioè solo per accendere un po' la lampadina non pensiamo semplicemente sempre solo al prodotto e in maniera lineare a promuovergli il prodotto ma cosa c'è intorno intorno c'è un sacco di valore da poter comunicare che è anche un po' il concetto della cima la cima ci sono duemila foto o foto o video delle cime in barcavela tutti che vanno ma in questo caso specifico siamo andati a trovare valore in produzione nella produzione quindi anche lì c'era qualcosa da comunicare adesso voglio darvi degli strumenti anche qua che un pochino vi sconvolgono probabilmente vi sconvolgeranno un filo l'aspettativa alcune di queste cose che vi dirò che però sono delle ricerche di psicologia comportamentale supportate da delle dati da delle analisi che vi possono servire anche per la vendita e per i contenuti adesso lo faccio vedere che cosa ci può aiutare perché ci può aiutare ci può aiutare per aumentare le performance dei contenuti come dicevo prima però anche per diversificare l'approccio commerciale vediamo un secondo che cos'è la scienza comportamentale o psicologia comportamentale che cos'è praticamente analizza il comportamento dei consumatori reale non quando sanno di essere osservati è una svolta incredibile perché normalmente le ricerche di marketing sono basate su focus group analisi però i consumatori sanno di essere osservati quindi c'è già un'elaborazione nel loro cervello la psicologia comportamentale analizza il comportamento delle persone ignare di essere osservati quindi è comportamento reale e infatti i risultati che poi vedremo sono un po' contrastanti rispetto a quello che noi ci immaginiamo queste tecniche ho fatto questa slide perché per dire queste tecniche sono utilizzate già da anni dai giganti di diverso settore però ci sono alcuni concetti che si possono applicare anche per le piccole e medie imprese non so se conoscete questo esperimento questo esperimento è interessantissimo secondo me perché sapete quando andiamo negli hotel c'è l'etichetta che dice riutilizza le asciugamani qui siate fatto un esperimento un po' di anni fa da Robert Cialdini sull'efficacia effettiva dei messaggi su questa etichetta quindi sono stati fatti tre messaggi diversi a tre gruppi importanti di consumatori per vedere qual era poi l'efficacia del messaggio reale studiata a tavolino quindi comportamento reale quindi il primo messaggio è riutilizzare le asciugamani aiuta a salvare il pianeta e questo qua ha funzionato per il 35% quindi riutilizzali salva il pianeta c'era il messaggio la spiegazione e tutto secondo messaggio che qua già è un concetto importante che dice diceva solamente riutilizzare le asciugamani non c'era la motivazione incredibilmente senza la motivazione il tasso di conversione il tasso di utilizzo è salito quasi 9 punti percentuali è contro quello che normalmente noi sappiamo come sapere comune conosciamo come sapere comune poi è stato cambiato ancora terzo gruppo di osservazione di utilizzare le asciugamani come ha fatto la maggior parte degli ospiti in questa zona come puoi dire compra questa macchinaria oppure questo prodotto come ha fatto il 50% dei costruttori in Lombardia caspita questo qua ha addirittura come vedete una performance nettamente superiore stiamo parlando di modifiche nelle parole e tenete presente che questi concetti vengono poi utilizzati anche nell'online nei messaggi che vengono comunicati quindi mentre tutti dicono il mio prodotto è più bello poi lo vedremo dopo il mio prodotto è più bello funziona così altri dicono le raccontano in un altro modo utilizzando anche delle leve diverse e innovative adesso vi faccio vedere un video sempre se la tecnologia ci assiste che è un po' datato però fa sorridere e però spiega molto bene il concetto ok non c'è l'audio ve lo spiego così quando lo vedete perché poi è in inglese è una candy però è vera quindi non è l'attore non sa quello centrale la persona centrale che vedrete non sa di essere osservato ok quindi entra la persona normale entra in un ascensore e intorno ci sono gli attori vedrete come questa persona è condizionata dal comportamento delle altre persone è incredibile sono poi tre persone diverse a seconda dell'età vedete che il condizionamento cambia vediamo se ecco lo descrivo un po' io attori attori e fra un po' arriva la persona eccolo lì quello centrale è una persona normale che sta usando l'ascensore l'ascensore di là è cieco è un po' di anni fa quindi non si va da nessuna parte c'è il muro di là quindi lui giustamente rivolge lo sguardo verso l'apertura però tutti gli altri per condizionarlo si girano contro il muro e lui piano 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 si rivolge cioè prende un comportamento assurdo questo qua si chiama riprova sociale come come bias comportamentale incredibile la forza del fatto di per esempio fare comunicazione e dire come dicevamo prima come abbiamo visto nell'etichetta la maggior parte delle persone si comporta in un certo modo e viene condizionata adesso vediamo un altro caso ancora altro persona anche qua un pochino più giovane forse questo e qua si inizia a porre dei dubbi e si gira incredibile come siamo condizionati dagli altri avanti adesso vediamo un ragazzo ancora più condizionabile perché ci sono delle azioni un po' diverse che vengono fatte immediatamente anche guardate riaprono hanno cambiato posizione lui si è adeguato adesso inizia a giocare col cappello perché tutti poi avevano il cappello ecco ancora ecco ancora e questo fa capire l'importanza di veicolare i messaggi anche in un certo modo perché le persone poi sono condizionate a questi bias comportamentali vedete che addirittura ha seguito quello che facevano loro col cappello andiamo avanti andiamo avanti in un altro bias comportamentale che può essere molto utile quando comunicate le vostre cose comunicate i vostri prodotti online e non solo online queste qua poi sono scoperte che sono state fatte sono state applicate anche online questa qua è una ricerca anche qua è stata fatta con gli utenti ignari per capire quale era in questo caso il prodotto che effettivamente veniva più consumato più preso e sorprendente rispetto a quello che dicono tutti che è la mela perfetta è tutto perfetto il biscotto con delle imperfezioni è un effetto particolare pratfall che preferiamo persone o cose con delle imperfezioni c'è un altro esperimento bellissimo di questa tipologia che praticamente due commerciali vengono messi in una situazione di spiegare un prodotto e il primo commerciale fa la sua scena perfetta la sua presentazione perfetta lineare tutta ed è molto competente che poi lo stesso commerciale in un'altra situazione fa una piccola gaffa fa una piccola gaffa durante la presentazione quindi fa rovesciare un caffè cioè mostra una debolezza non una presentazione lineare perfetta il tasso di credibilità dell'altro dalla ricerca è nettamente più alto quindi questo è un altro stimolo un po' è conferma di dire non abbiate paura di fare le cose originali se c'è anche un video un contenuto qualcosa che mostra una piccola esitazione un difetto eccetera quella addirittura è a supporto della credibilità del resto non è che dovete per forza tagliare o toglierla perché se sapete questi concetti la mettete a volte dentro apposta nel video perché questo aumenta la credibilità di quello che avete detto prima di quello che avete detto dopo mostrare una fragilità ed è supportato dalla ricerca altro concetto importante che va contro quello che pensiamo noi quante volte magari le vostre aziende comunque vengono fatte comunicazioni o slogan dei prodotti nei quali che dicono ah sì noi vi porteremo verso il futuro piuttosto che la nostra azienda vi guiderà verso eccetera attenzione perché le ricerche le psicologie comportamentali ci dicono una cosa incredibile cioè questo l'ho lasciato in inglese perché era proprio l'esperimento quindi qua a diversi gruppi di analisi sono state fatte vedere per pochi secondi le parole a sinistra che erano legate a cose concrete quindi la porta la ruggine il motore la foresta la muscolatura l'uomo il cavallo bianco eccetera stesse persone altra visualizzazione parole astratte non ci crederete ma il tasso di memorabilità quindi di ricordo nella nostra mente dell'essere umano delle parole concrete è quattro volte più alto quindi pensate a tutti gli slogan aziendali che abbiamo aleatori o cioè nel senso basati su queste su queste espressioni questi non hanno nella realtà dei fatti delle ricerche non hanno memorabilità quindi anche qua nella presentazione del prodotto nella spiegazione del prodotto nel dirlo se questo prodotto ti cambierà la vita ma sono concetti astratti cioè è meglio legarlo a qualcosa di concreto che a livello di memorizzazione è legato a un'immagine quindi questo è importante e tutte queste cose vengono applicate poi nel mondo digitale e poi creare contenuti di un certo tipo sono comunque degli strumenti importanti vi faccio vedere un esempio di un po' di anni fa quindi possiamo parlare dei due approcci adesso in questo caso non so se l'aveva voluto o meno però l'approccio della Philips era mp3 in full motion quindi in pieno movimento sono tutti concetti astratti guardate già l'epo che lavorava già da anni su questi temi quindi mille un numero mille musiche canzoni nella tua tasca cioè nella tua tasca c'è una visualizzazione nell'altro è mp3 un codice in movimento proprio il top dell'astratto anche qua quando costruiamo i nostri messaggi ripeto online ma anche i commerciali ragioniamo su questi concetti su cosa diciamo per essere ricordati e notati altro bias legato alla psicologia comportamentale interessante per chi ha appunto vendita per chi ha la paralisi della scelta vi faccio vedere un esempio incredibile una cosa un po' che sappiamo tutti però è simpatico l'esperimento è stato fatto un esperimento con sei barattoli di marmellate nel caso specifico quindi un assortimento con sei barattoli con il traffico che passava davanti di persone e con 24 barattoli è stato analizzato quante persone effettivamente compravano il dato interessante è che il 28% di persone si è fermato ovviamente davanti all'assortimento maggiore ma nella realtà gli acquisiti sono stati 10 10 cioè non parliamo dello 0,2% 10 volte superiori però attenzione qua l'ho messo ho messo una specifica perché ovviamente dipende da alcuni contesti perché non è sempre così come abbiamo visto lì succede in particolari condizioni quindi quando il cliente non ha particolari preferenze non conosce le varie opzioni le opzioni sono simili quindi io non sono riuscito a spiegarle correttamente le differenze oppure sono difficili da capire vendiamo a noi per esempio aziende o distributore l'introduzione di un nuovo prodotto o di una nuova gamma di prodotti entrare in un mercato estero con tutto il catalogo cioè queste sono una serie di errori avere un sito dove alla voce prodotti ci sono 50 voci nella realtà la persona abbandonano give up proprio abbandonano il cervello umano abbandona normalmente anche questo è un dato utile per voi e con altre aziende l'abbiamo fatto il numero ideale di quando ci sono le liste è 6 6 dopodiché già va 9 è esagerato e se dovete mettere qualcosa di importante mettetelo all'inizio e alla fine quello di mezzo viene dimenticato quindi tenete presente che ci sono aziende che lavorano con questi concetti lavorano con questi concetti quindi se vedete un'azienda che ha 50.000 prodotti ma guarda a casa ne ha solo 6 di macro categorie e dopo si va in profondità è perché seguo questi concetti perché i dati supportano questi concetti se no la gente abbandona io mi ricordo ad esempio quando poi avevo aperto un mercato del Canada ho iniziato all'inizio con il catalogo pieno che c'erano 300 articoli alla fine dopo qualche mese mi sono reso conto che dovevo partire da 12 articoli ho fatto tutto il fatturato con 12 articoli perché la gente andava in palla soprattutto nei mercati esteri va in confusione con troppe opzioni troppe scelte altre cose altra cosa interessante cerchiamo in qualche modo anche nei nostri siti classici di lavorare un po' come l'e-commerce di dare una priorità di dare una guida come diceva sotto evidenziamo il prodotto che ci interessa vendere perché sennò il cliente si perde molto banalmente altra cosa interessante e qui lo leggo un'altra ricerca che è stata fatta nell'edilizia è il fatto che tutti noi diciamo ok questo isolante ti farà risparmiare picco pallino questa cosa ti farà risparmiare due giorni di lavoro piuttosto che guardate qua un esempio una compagnia telefonica tu potresti perdere 194 sterline all'anno nella tariffa sbagliata se compri la tariffa telefonica sbagliata questi qua hanno lavorato su un bias comportamentale che si chiama l'avversione alla perdita che dice che noi tra virgolette siamo molto più convinti a cambiare se sappiamo che stiamo perdendo qualcosa piuttosto che non stiamo guadagnando eppure tutte le nostre comunicazioni sono su quanto guadagni guardate questa ricerca nel settore degli isolamenti degli isolamenti per la casa è stata fatta una ricerca qua negli Stati Uniti isolamenti per la casa è stato fatto un audit energetico ok a diversi proprietari di casa e dopo l'audit la persona è andata a parlare con i proprietari e gli ha dato due messaggi completamente diversi al 50% delle persone gli ha detto che tu avresti risparmiato 0,75 dollari al giorno se avessi isolato la tua casa e all'altro il 50% gli ha detto che avresti perso 0,56 dollari al giorno guardate la differenza il 56% in più di conversione c'è la persona gli viene detto che viene perso non dico che bisogna usare sempre queste cose però saperle aiuta a fare la differenza in quella massa di informazioni di contenuti che continuano a essere messi ogni secondo come avete visto prima online e sono supportate le ricerche scientifiche quindi quando promuovete un prodotto quando il vostro ragazzo del desk cerca di vendere qualcosa io spero di avervi un po' stimolato a questo punto di vista guardare le cose in un altro modo e i numeri sono sorprendenti perché qua ovviamente per confidenzialità io so anche i numeri di vendite che sono derivati dalle altre iniziative che ho fatto vedere prima e sono importanti quindi non sono concetti di marketing in teorici sono supportati da vendite niente finisco con questa frase interessante perché vi ho detto prima appunto che cerchiamo di guardare oltre cerchiamo di guardare le cose in maniera differente ed è questo che può fare la differenza per noi quindi ho cercato di andare al cuore delle cose per dire che il cuore è contenuto torniamo indietro facciamo un passo indietro perché poi lo veicoliamo in tanti modi ma se quello che veicoliamo all'origine non è a posto abbiamo risultati che poi il 90% delle aziende che lavorano online hanno perché tu divulghi qualcosa che all'origine il succo non è buono la polpa non è buona e per essere buona deve essere originale dovete osare a livello creativo eccetera questo è un po' il messaggio volevo darvi un po' degli strumenti poi possiamo spaziare in algoritmi come dicevamo campagne remarketing c'è un mondo ma voi che magari siete i proprietari o i commerciali o i manager dovete spingere chi vi segue la parte digitale chi vi segue all'origine lavorate tanto all'origine perché se il contenuto è buono va avanti da solo quasi e questo è anche un altro messaggio va avanti da solo e a basso costo che magari è stato fatto dal ragazzo del magazzino e quello lì vi apre un mercato e mercato vuol dire anche mercato della provincia di Como nel senso a livello territoriale se il contenuto funziona io insisto tanto su queste cose gli altri sono strumenti che si possono imparare e aiutano a potenziare il raggio d'azione dei contenuti che creiamo se avete poi domande scrivetemi pure ma se avete anche domande adesso sono qua ci sono tantissimi altri case study ho cercato di raccogliere quelli dell'edilizia e di essere un po' coinciso grazie grazie grazie